Alla provincia arriveranno 750.000 euro del MIUR per l'edilizia scolastica leggera che verranno utilizzati per adeguare le aule degli istituti superiori alle norme anti-covid, ma anche per il potenziamento della rete internet. Ai finanziamenti statali sono stati aggiunti altri 70.000 euro che serviranno anche per l'acquisto dei termoscanner. Le scuole interessate sono il Liceo Copernico, dove verranno realizzate 4 nuove aule, l'Istituto Buzzi, dove è previsto un intervento di areazione in stanza di vita a magazzino, che quindi saranno trasformati in laboratori multifunzionali, il Dagomari, qui verrà realizzata una scuola anti-incegno che permetterà di ospitare un numero maggiore di allievi. Piccoli interventi anche al Gramsci Keynes, al Marconi e ai Rodari. 25 cantieri che daranno lavoro ad altrettanti imprese locali. Grazie ai 750.000 euro che arriveranno dal Ministero potremo fare numerosi interventi nelle scuole pratesi che vanno nella direzione di renderle più dinamiche, quindi interverremo per esempio rimodellando alcune aule, rendendole più adeguate anche alle esigenze delle distanze di sicurezza, ma soprattutto faremo interventi anche di messa in sicurezza delle scuole, piuttosto che di avanzamento tecnologico, ma un grande investimento anche sulla rete all'interno delle nostre scuole. Interventi che non hanno soltanto l'obiettivo dell'emergenza, ma che sono interventi che restano. A breve, ASL Toscana Centro pubblicherà i protocolli sanitari per la riapertura delle scuole. Dai test sireologici alla presenza del medico scolastico, fino al modello da adottare nel caso di insegnanti, alunni o personale ATA fossero contagiati.